Bentornati sul canale Italia nel mio cuore. Oggi con le ultime notizie come Benedetta Rossi è stata lasciata dal marito che è partito via prendendo un aereo Ecco cosa è accaduto alla famosa youtuber e blogger.Benedetta Rossi separata Marco se n'è andato e non ritorna più, dice una nota canzone di Laura Pausini, ma questa volta il marco in questione non è il giovane amore della cantante italiana ma bensì il marito di Benedetta Rossi Benedetta Rossi lasciata da sola dal marito.Youtuber e blogger italiana, la donna è diventata famosa dopo aver postato su YouTube una serie di ricette semplici e veloci pubblicando le stesse anche in un blog diventato in poco tempo molto famoso Nata in provincia di Fermo, a Porto San Giorgio, nel 1972 la donna ha da sempre avuto la passione per la cucina per via di sua madre e sua nonna che sin dalla tenera e tale hanno insegnato i segreti per cucinare degli ottimi manicaretti Grazie alla passione per la gastronomia, Benedetta assieme a suo marito Marco Gentili decide di aprirsi un'attività immersa nel verde dove comincia, con la complicità del suo uomo, a creare dei video aprendo il blog e il canale YouTube, fatto in casa da Benedetta Benedetta Rossi lasciata a casa da sola dal marito.In breve tempo ottiene un successo enorme che le dà una grande popolarità e viene invitata spesso in trasmissioni televisive fino ad arrivare ad ottenere un suo show televisivo e a pubblicare una serie di libri di cucina La sua popolarità si deve alla semplicità e al modo diretto senza fronzoli di spiegare i procedimenti e di utilizzare ingredienti a portata di mano Il motivo della separazione.Benedetta è molto attiva sui social dove ha annunciato la morte del suo amato cane nuvola e l'arrivo del nuovo cloud, ma in una delle ultime storie la donna ha parlato di suo marito e della sua partenza che ha visto l'uomo viaggiare da solo lasciando la donna a casa e stando separato da lei per un breve periodo La Rossi, in una delle sue storie ha pubblicato una foto ritraente suo marito Marco, negli USA dove è volato per vedere la NBA La donna nella storia ha rimarcato più volte che suo marito è andato da solo senza spiegare il perché non gli ha fatto compagnia Benedetta Rossi lasciata a casa da sola dal marito.Marco oltre girare il video, si occupa anche del montaggio della pubblicazione, contribuendo così in maniera attiva al successo ottenuto dalla donna che continua a regalare preziose ricette ai suoi fan Benedetta e Marco sono sposati da oltre dieci anni e hanno rinnovato la loro promessa d'amore Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao